Allora, il casting è per la sfilata di un marchio imbronciato o un marchio sorridente? È un marchio imbronciato, vero? Congratulazioni! Mostrami lo sguardo Balenciaga! All'improvviso sono vestito con qualcosa di molto meno costoso. H&M! Sì! Balenciaga, H&M, Balenciaga e H&M! Grazie al suo aspetto, biglietti gratis. E lei cosa fa? Vendo merda. Il successo di una crociera di lusso dipende solo da voi. Non voglio sentire nessuno dire no. Ma solo... Sì, signore! Sì, signora! Questo è un ordine. Goditi il momento. No. No? No. Come? Mi stai dicendo di no? No, no. Quindi è un sì? Sì, no. Sì? Sto entrando in atto. Sì! Le vele. Pensa che sia possibile farle pulire? Beh, non credo sia possibile, signora, perché questa è una nave a motore. Sì? Quindi non ci sono vele. Ma le vele c'erano. Sì. Beh, allora in questo caso andremo a pulire le vele. Sì, certo. Sì. Un brindisi. All'amore. 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 Un russo capitalista. E un americano comunista. Su uno yacht da 250 milioni di dollari. La nave sta affondando. What the world needs now Is love, sweet love No, not just a storm But for everyone Siamo messi male Siamo messi molto male Siamo messi male